Questa mattina il Museo di Pomezia ha ospitato la conferenza stampa dedicata all'iniziativa Ugo Tognazzi Pari 30, che si terra a Torvajanica il 21, 22, 23 agosto 2020, erano presenti il vice sindaco del comune di Pomezia Simona Morcellini, il direttore del museo dottoressa Claudia Montano, l'attore Ricchi Tognazzi, i quali hanno avuto modo di apprezzare i contenuti storico-scientifici del museo ed in particolare della civiltà marinara di Torvajanica, tanto cara Ugo Tognazzi negli anni della dolce vita.